RITORNARE A SE STESSI Esistono menti che si interrogano, che desiderano la verità del cuore, la cercano, si sforzano di risolvere i problemi generati dalla vita. Cercano di penetrare l'essenza delle cose e dei fenomeni e di penetrare in loro stesse. Se un uomo ragiona e pensa bene, non ha importanza quale cammino egli segua per risolvere questi problemi. Deve inevitabilmente ritornare a se stesso ed incominciare dalla soluzione del problema di che cosa egli stesso sia e di quale sia il suo posto nel mondo attorno a lui. Perché senza questa conoscenza egli non avrà un punto focale nella sua ricerca. Le parole di Socrate, conosci te stesso, perdurano per tutti coloro che cercano la vera conoscenza ed il vero essere. Tratto da Vedute sul mondo reale Gurdjieff parla agli allievi 1917-31 L'episodio di oggi finisce qui. Grazie per averci ascoltato e al prossimo appuntamento. Grazie per averci... Grazie a tutti.